Allora, caro viceministro, sottosegretario, ti ho sempre dato del tu e ti ho sempre chiamato ministro, per cui io continuo così e col tu. Allora, la situazione, io farei vedere subito un filmato perché è chiaro che ci sono delle restrizioni, tante regioni in rosso, anche se il Lazio poi da martedì diventerà arancione, però diciamo che la situazione non è per nulla semplice in questo momento perché i contagi sono tanti, i ricovidi sono aumentati e purtroppo i morti sono ancora tanti. Allora, vediamo questo filmato e poi cerchiamo di capire in maniera molto semplice in questa giornata così particolare di pace la situazione e che cosa ci aspetterà, perché la preoccupazione di tutti quanti è proprio capire che cosa ci aspetta per il futuro. Vediamo il filmato. Fino a fine aprile si va dunque verso una conferma del blocco degli spostamenti tra regioni. Rimarranno chiusi i bar e i ristoranti anche a pranzo perché per lo stesso periodo si valuta un'ulteriore sospensione delle zone gialle. Per ora dunque non riprenderebbero neanche cinema, teatri o palestre. La scadenza del nuovo decreto è fissata al 30 aprile perché coincide con la fine dello stato di emergenza. Un'eventuale proroga verrà valutata in un secondo momento. Obiettivo del governo affrontare queste nuove settimane di restrizioni per poi iniziare a ragionare su aperture graduali. Dai dati della cabina di regia solo a Lazio è consentito il passaggio martedì da rossa ad arancione, massime restrizioni invece per la Val d'Aosta dove l'incidenza dei casi supera i 250 ogni 100.000 abitanti. Il cambio di questa settimana sarà l'ultimo prima del fine settimana di Pasqua che vedrà comunque il paese tornare interamente in zona rossa da sabato 3 a lunedì 5 aprile. Questa è la situazione? Sì, è una situazione che se si analizzano i numeri è in lieve miglioramento, cioè i sacrifici fatti nelle scorse settimane dalle regioni che erano già rosse e quelle arancioni e poi aver chiuso l'Italia eliminando la zona gialla sta dando i primi frutti che però si consolideranno dopo Pasqua perché servono almeno due settimane per migliorare ulteriormente i numeri che stiamo osservando. Si tratta quindi davvero dell'ultimo sforzo perché abbiamo una variabile rispetto allo scorso diciamo all'autunno o a gennaio, abbiamo una vaccinazione che sta dando i suoi frutti in termini numerici, cioè chi si vaccina oggi, un mese da oggi è protetto anche se ha fatto solamente una dose, è chiaro che la seconda dose renderà migliore l'immunità del soggetto. Questa vaccinazione progressiva porterà ad avere sempre più persone, soprattutto i nostri fragili, i nostri anziani, il personale sanitario è pressoché totalmente vaccinato, l'RSA pressoché totalmente vaccinato e ora si sta scendendo con metà sotto i 70 anni a non rischiare più la malattia severa, di che significa che è vero che oggi osserviamo ancora 350-400 morti ed è un dramma perché il numero è sicuramente troppo elevato, ma a un mese da oggi questi numeri non saranno più così e sarà molto simile a ciò che sta avvenendo oggi l'Inghilterra. L'Inghilterra ha iniziato prima di noi la vaccinazione, ha avuto dei numeri che noi stiamo guardando oggi circa due mesi fa e quindi tutto si sposta di circa due mesi e vedrete che dalla fine di aprile e maggio la situazione sarà notevolmente diversa. Il grande sforzo nella vaccinazione, fiducia nella vaccinazione, fiducia nelle nostre istituzioni e vedrete che passeremo un'estate diversa rispetto a quella che abbiamo vissuto lo scorso anno. Noi ce lo auguriamo assolutamente, però vogliamo dire che forse qualche errore è stato fatto, non possiamo non dire di no perché ci sono ancora tanti tanti anziani che non hanno ricevuto il vaccino. Allora gli anziani ad oggi che hanno ricevuto la prima dose di vaccino sono circa 2 milioni e 2, circa il 50% del totale sopra gli 80 anni hanno ricevuto la prima dose e un circa 25% hanno già ricevuto la seconda dose, ma questi i numeri, se li guardate, giorno dopo giorno stanno crescendo in maniera davvero importante e come le dissi due settimane fa, vedrà che per Pasqua e la prima settimana di aprile la stragrande maggioranza degli over 80 avranno già ricevuto almeno la prima dose di vaccino. È chiaro che errori sono stati fatti, io sono stato, a me tutto si può dire, io punto sempre prendito anche su un mese sesto quando faccio un errore, però vede, la forza di una nazione è davvero, si può davvero percepire quando tutti si stringono intorno alle istituzioni, è giusto sottolineare gli errori, è giusto punire chi sbaglia, attenzione, è giusto che le inchieste vadano avanti, chi ha sbagliato è giusto che paghi, ma questo è il momento in cui dobbiamo credere nel sistema e andare avanti con forza e con rispetto delle nostre istituzioni. Se lei si ricorda due settimane fa parlavamo del numero di vaccini, le dissi guardi che arriveremo a 9-10 milioni di somministrazioni molto prima di Pasqua ed è una settimana da Pasqua, vedrà che per Pasqua avremo 12-13 milioni di vaccini somministrati, sono dei numeri che stanno crescendo davvero in maniera importante, una volta che abbiamo protetto i fragili vedrete che il numero dei contagi e anche dei decessi, il numero dei contagi nei soggetti fragili che portano in ospedale e portano ai decessi calerà drasticamente, dobbiamo aspettare qualche settimana, restrizioni, la scuola riapre, è chiaro che nel momento in cui tu devi fare delle restrizioni perché devi consoliderare quello che hai guadagnato con lieve calo dei contagi, ma vedrete che sarà più alto fra una settimana e due settimane questo calo intendo dire, qualcosa puoi riaprire, la scuola è una priorità. Quando riapre la scuola? Come avete visto già da martedì, che significa garantire a quella categoria che sono i nostri figli che sono stati penalizzati come gli anziani, noi abbiamo tre categorie di persone penalizzati, abbiamo gli anziani ammalati e deceduti, abbiamo i bambini, i ragazzi che non sono andati a scuola e abbiamo le donne che stanno spesso a casa in smart working e molte sono state licenziate, queste sono le tre categorie alle quali noi dobbiamo volgere la nostra azione, quindi priorità vaccini, priorità vaccini consentiranno le riperture delle scuole, scuole riaperte perché i contagi vanno meglio e poi tutto ciò che vi è in mezzo con gli aiuti che lo Stato sta dando. Senti Ministro, però perché in alcune regioni, ad esempio ecco il Lazio, il Lazio è molto avanti, settimana scorsa addirittura i settantenni, questa settimana prossima partono dal 1953-54, perché in alcune regioni siamo così avanti con i vaccini e in altre così indietro? Onestamente, da che cosa dipende? Dipende dal governo centrale, dipende dalle regioni, perché anche lì ho visto che c'è un po' chi dice colpa del governo e colpa delle regioni, insomma non si capisce bene perché. Torniamo al discorso precedente, una grande nazione critica in silenzio e manda avanti la nave. Il Lazio è andato molto bene, aveva i presupposti per andare bene, il lavoro di coordinamento, anzi l'assessore D'Amato ha fatto davvero un lavoro eccezionale, quindi parlo dell'assessore D'Amato come responsabile della sanità. Altre regioni avevano delle carenze che erano antecedenti il Covid, che hanno cercato ovviamente di sopperire a queste carenze e altre hanno fatto degli errori clamorosi, come ad esempio piattaforme che non funzionano, che non riescono a mandare messaggi. Un coordinamento centrale è necessario, è necessario per supportare e aiutare, è quello che stiamo facendo. Si è parlato tanto della Lombardia, ma per alcuni aspetti mi sento di difendere un po' la Lombardia perché è stata presa un po' come capo espiatorio, la verità è che poi negli ultimi giorni tutto si è accelerato e qualche problemino c'è stato. A questo proposito vado da un amico lombardo che ha avuto anche il Covid e vado da Alessandro, da Alessandro Sallusti, direttore del giornale che vedo già in collegamento. Ecco Alessandro, buongiorno e buona domenica delle palme. Allora Alessandro hai sentito la domanda mia al Ministro Sileri? Cioè perché in alcune regioni così avanti e in altre ancora così indietro? Credo che i motivi, come ha ben detto il Vice Ministro, sono più di uno. Per quanto riguarda la Lombardia io cerco di fare non richiesto l'Avvocato Difensore. Qui è stato il cratere dell'infezione. Qui l'infezione ha colpito in maniera durissima e quindi questo ha poi rallentato e complicato tutto. Per di più la Lombardia ha il più alto numero di abitanti di tutte le regioni italiane. Siamo in 10 milioni con una mobilità e una densità di popolazione per chilometro quadrato che certo non ha facilitato la lotta al Covid, anzi semmai la rallentata. Dopodiché la Lombardia oggi è la regione che sta vaccinando più di tutte. Certo in proporzione alla popolazione risulta indietro, ma in numeri assoluti sta recuperando. E poi la Lombardia ha commesso tanti errori, ma ha avuto una grande forza di rimediare, di vederli questi errori, affrontarli e rimediarli. È stato cambiato un assessore, è stato commissariato un ente pubblico che era quello che faceva acqua in quanto, come diceva il viceministro, alla parte informatica, cioè avvisare la gente. Stiamo parlando di aria, Alessandro. È una regione che ha fatto tanti errori, ma li ha affrontati, li ha risolti. Io mi auguro per i Lombardi e per gli italiani che adesso tutto proceda velocemente. Pienamente d'accordo. Non è che noi possiamo puntare il dito sulla Lombardia. Io non ho mai puntato, ad esempio, anche durante la prima ondata. Ho sempre difeso il sistema Lombardo. Il sistema Lombardo è quel sistema che fino a prima del Covid, quando avevi un tumore di quelli che ti sembravano inoperabili, prendevi e andavi a Milano. Quindi, attenzione, la sanità è la stessa. L'organizzazione è stata deficitaria per alcune cose. Però adesso basta puntare il dito. Se andiamo a vedere i numeri, come diceva il direttore Saldussi, stanno crescendo. Cioè, si dice che in Lombardia gli anziani non vengono vaccinati. Ci sono stati dei problemi, sicuramente, nelle scorse settimane, ma i numeri attuali sono in linea con quelli delle regioni che vanno meglio. Cioè, il 50%, poco meno, il Lazio sta al 52% degli over 80% con almeno una dose di vaccino, e la Lombardia sta al 47%. Adesso non venitemi a dire che il 5% di differenza è un numero importante. È diverso, invece, la seconda dose. Perché? Perché la Lombardia ha recuperato negli ultimi giorni, nelle ultime settimane. Questo recupero ormai è consolidato e colmerà tutti i disagi che vi sono stati prima. Così la Calabria. Si dice che la Calabria non ha vaccinato. Non è vero. Se andate a vedere i numeri, anche lì, si stanno colmando. Quindi, cerchiamo di avere fiducia nel sistema. I numeri parlano chiaro. I numeri sono trasparenti, sono pubblicati, possono essere visti ogni giorno. L'Italia, davvero, sta facendo, con l'impegno delle persone, degli uomini e delle donne che stanno vaccinando, davvero quel salto di qualità che era atteso. Assolutamente. Ho visto anche ieri ai telegiornali che c'è proprio uno staff medico in varie regioni che vanno proprio nei luoghi un po' abbandonati, difficili da raggiungere, dove ci sono gli anziani, proprio i novantenni, che non possono muoverci, e hanno cominciato ad andare loro nelle case. Ci saranno... E devo dire, insomma, che questa è stata un po' una carezza nel cuore di tutti quanti noi, vedere anche... centri vaccinali mobili, cioè, centri vaccinali mobili di media grandezza, di grande, diciamo, volume, arriveremo a 500.000 dosi. Quindi nessuno deve rimanere stupefatto, dice, l'Italia arriverà da 500.000 dosi a metà aprile. Sarà così? Sai, Ministro, la verità è che qua è più di un anno che stiamo così, no? Siamo tutti molto stanchi, molto... Cioè, è chiaro che dopo un anno e più siamo tutti quanti anche un po' stanchi, avviliti, un po' stremati, abbiamo perso un po' di fiducia, ma invece dobbiamo davvero in questo momento, secondo me, fare quel salto in lungo e anche di positività, perché abbiamo patito tanto, abbiamo sofferto tanto, abbiamo visto persone, amici, familiari a stare male, qualcuno se n'è andato e dobbiamo in questo momento davvero non avere nessun tipo di negatività dentro di noi. Dobbiamo andare avanti e, come lei ha detto l'altra volta, manca un miglio, dobbiamo andare avanti, ce la dobbiamo fare. Però io insisto sempre e siamo, credo, finalmente sulla strada giusta. Bacini, bacini, bacini. Tra poco avremo il professor Vaia, che è il direttore sanitario dello Spalanzani e lui è stato il primo qualche domenica fa a dire a me non frega niente il nome del bacino, Sputini, qualsiasi nome va bene, l'importante è che funzioni, perché soltanto così noi possiamo uscirne. Io non vedo un'altra strada, a me dispiace. C'è chi, e io non sono assolutamente polemica, con chi è contro il vaccino. Io credo che bisogna parlare, bisogna informare ancora di più. Chi è scettico, con grande rispetto ed educazione, va convinto che la strada è solo il vaccino, perché abbiamo visto quello che sta succedendo, no? Alcuni sanitari, alcuni infermieri che ne sono no vax. Sono pienamente d'accordo con lei perché spiegare ai pazienti significa dare quelle nozioni che chiaramente loro non hanno. Sono meno d'accordo se questa spiegazione deve essere data al personale sanitario, perché il personale sanitario che rifiuta il vaccino, secondo me, e continuo a dirlo, l'ho detto il 27 di dicembre, secondo me è incompatibile col tipo di lavoro che si svolge. Perché mentre la persona che viene a farsi operare ha paura della chemia, ha paura dell'intervento, ed è comprensibile, avrei paura anche io. Se oggi mi facessero diagnosi di tumore e dovessi andare da un chirurgo, sebbene io sia un chirurgo avrei paura di farmi operare, avrei paura della chemioterapia, quindi mi affiderei a quella persona, ma il personale sanitario no. Il personale sanitario non può dire che la chemioterapia fa male, il personale sanitario non può dire che il vaccino fa male, è completamente incompatibile con il percorso di studi e la missione che tu in quel momento stai facendo. Quindi su questo, mi dispiace, io ho tolleranza zero. Cioè non posso sentire che nell'RSA, voglio dire la Lombardia, parliamo della Lombardia, ha il 100% delle persone nell'RSA vaccinate. Questo non lo dice nessuno, la Lombardia ha il 100%... Assolutamente sì. Ok, è un buon risultato. E non ci sono casi. Perfetto. I casi che si sono osservati purtroppo negli ultimi tempi sono legati a quel personale sanitario che non si è vaccinato. Questa cosa, perdonatemi per me, è tolleranza zero. È inaccettabile in questo momento un nato per ieri. L'ultima è di ieri, l'ultima è di ieri, proprio qua nel Lazio. Sallusti, ho visto che a noi vi sei d'accordissimo con quello che dice Sirei. Per forza, ma sono d'accordissimo anche con quello che dicevi tu, perché in questo studio dobbiamo essere tutti d'accordo, ma evidentemente la pensiamo allo stesso modo. Cioè, sul cittadino normale va fatta l'opera di convinzione. È un discorso delicato quello di costringere un cittadino a vaccinarsi. È molto delicato. Mentre invece sul personale sanitario, no? Il personale sanitario deve essere vaccinato e se non lo accetterebbe il mestiere. Non in cambio, perché non è uno scambio. Io aggiungerei nel pacchetto anche lo scudo giudiziario. Non è possibile che il personale sanitario sia costantemente a rischio di azioni giudiziarie, non per errori gravi e in manafede, che è quello che è ovvio che resta, ma perché magari il vaccino provoca qualche controindicazione, piuttosto che una cura si rivela meno efficace di quello che si pensava. Cioè, il personale sanitario va anche protetto dal punto di vista giudiziario. Se no, non siamo un paese serio. Sono d'accordo anch'io con quello che dice Saluzzi, assolutamente. Uno può rischiare pure poi di andare in galera se fa il proprio lavoro. Questo problema del contenzioso medico legale col personale sanitario è un po' vecchio, a dire il vero, e andrebbe superato anche oltre il Covid. Perché, vede, la medicina difensiva costa circa 5 miliardi di euro l'anno. Perché i medici oggi vengono facilmente denunciati. Attenzione, quando c'è l'errore è giusto che il paziente venga risarcito. Però è un conto la causa civile, è un conto la causa penale. Perché è chiaro che io per una persona, se commetto un errore grossolano, è giusto che vada in carcere. Ma, attenzione, l'errore è grossolano, la colpa grave, il dolo, tutto il resto vi è il contenzioso civile. Dovremmo cercare di tramutare tutto ciò che è il penale nei confronti, ovviamente, del sanitario, verso una miglioria nelle cause civili per dare risarcimento a coloro che giustamente si sentono colpiti, o offesi, o danneggiati dal nostro servizio sanitario nazionale. E soprattutto far recuperare quel rapporto fra medici, infermieri e pazienti. Che purtroppo si è rotto negli ultimi anni, spesso proprio per i tagli. Perché il paziente accusa chi è nel front desk, cioè il medico e l'infermiere, di un servizio che non riesce ad avere, che però magari è legato a carenze strutturali. Dobbiamo far recuperare questo rapporto, creare anche quell'arbitrato della salute negli ospedali. Cioè far sì che il paziente che si sente danneggiato trovi in quell'ospedale una risposta e il giusto risarcimento per il danno che è stato provocato. Ma attenzione, è un conto il danno provocato, un conto è la colpa grave, un colpo è l'incompetenza che magari davvero ti porta a far qualcosa che non sei in grado di fare. Cioè se togli il rene di destra, quando devi togliere il rene di sinistra, io pure lì tolleranza zero, voglio dire. Però per il resto cercare di aprire l'ospedale ai pazienti, ai familiari e anche a queste cause cercare di migliorare il percorso. Senta, allora ci sarà una legge che obbliga i sanitari? Lei pensa che... Si sta lavorando a un provvedimento e chiaramente vedrà la luce nei prossimi giorni. Addirittura nei prossimi giorni? Beh, per quanto riguarda, diciamo... L'obbligo, parlo l'obbligo. Sì, l'ho letto sui giornali, voglio dire. Sì, l'ho letto, ma infatti glielo chiedo. Sì, esatto, aspettiamo i prossimi giorni che venga perfezionato e quindi poi sarà ovviamente pubblico e tutti conosceranno. Per cui dovranno farlo in maniera obbligatoria? Secondo me verranno messe, come avete letto, un perimetro per il quale è meglio farsi il vaccino. Ok, allora vediamo questo filmato e parliamo proprio di campagna vaccinale. 11 milioni di fiale distribuite, più di 9 milioni di persone hanno ricevuto la prima dose e quasi 3 milioni, anche il richiamo. I numeri di oggi, la sfida di domani, fare di più, accelerare per raggiungere l'obiettivo delle 500 mila somministrazioni quotidiane. Il commissario straordinario all'emergenza, figliuolo, insiste su una parola, insieme. Migliorare insieme si può fare. Arriveranno nella settimana 29 marzo, 3 aprile, oltre un milione di dosi Pfizer, oltre 500 mila dosi moderne e oltre un milione e 300 mila AstraZeneca. Le forniture da una parte, le strutture dall'altra, bisogna potenziare gli hub e aprirne di nuovi. Allora, in questo filmato è un po' quello che stiamo dicendo, insomma, andare avanti. Che cosa ne pensi delle 29 milioni di dosi trovate qui vicino a Roma, da anni, di AstraZeneca? Guardi, io non vedo un giallo, sebbene all'inizio anch'io ho pensato che ci fosse un giallo, ma far scomparire o, diciamolo un po' così, imboscare 30 milioni di dosi la vedo praticamente impossibile. E' chiaro che serve trasparenza su quella che è la provenienza di quelle dosi e la destinazione finale. In quello stabilimento quello che viene fatto è che il bacino viene messo all'interno delle fiale, quindi, diciamo, una procedura in cui vengono impacchettate le fiale e poi andavano in veloce. Dove sarebbero andate quelle fiale? Allora, una parte di esse è destinato per i paesi, diciamo, con un reddito medio-basso e quindi è un programma ONU che consente di aiutare i paesi 18 milioni. E le altre le distribuite in Europa. Francamente non vedo oggi il giallo o il losco, o il qualcosa di strano dietro, diciamo... Ma in questo momento queste 29 milioni di dosi sono ancora lì oppure sono già state distribuite? No, sono lì ma verranno distribuite, cioè non rimarranno ferme perché sono dosi che servono... Cioè, il principio è questo, dovunque c'è il virus servono le dosi. Quindi anche nei paesi in via di sviluppo, i paesi, diciamo, a basso reddito hanno diritto ad avere le loro fiale. Quello che però deve cambiare è, diciamo, la procedura all'interno dell'Europa per trattenere delle fiale in più, perché in questo momento noi abbiamo AstraZeneca, che già è stata purtroppo penalizzata anche da una cattiva pubblicità su quel determinato vaccino. Però è pur vero che il numero di dosi che hanno consegnato è largamente inferiore a quella dei contratti. Quindi anche cercare di trattenere... Direi tanto, direi tanto, perché su 120 milioni ne hanno consegnate 20. Le ho dette in una forma politica... Ah, ecco, io invece sono poco... No, l'ho detta in maniera molto dolce, direi, però... No, Alessandro, scusa, da 120 milioni ne hanno consegnate 18-20, mi pare, insomma, non di più... Sì, diciamo che il numero è esiguo rispetto a quelli che erano i contratti. Quindi cercare di trattenere le dosi in Europa è fondamentale. Però forse non è il momento di polemiche e non ci vuole, insomma, un detective, non ci vuole Montalbano per capire dove andavano queste dosi. L'importante è sbloccarlo e che questo vaccino arrivi al più presto a tutti. Io la vedo così. Vediamo il filmato a questo proposito. 29 milioni di dosi del vaccino di AstraZeneca stipate nello stabilimento Catalan di Anagni in provincia di Frosinone. Il siero anglo-svedese è al centro di una nuova polemica internazionale. La scoperta dopo un'ispezione dei NAS in seguito a una telefonata del premier Draghi allertato direttamente dalla presidente UE von der Leyen. Il sospetto è che vi siano flussi non documentati verso paesi fuori dall'Unione Europea, in particolare verso il Regno Unito. Intanto due dei lotti individuati sono partiti verso la casa madre. In Belgio gli altri vengono tenuti sotto stretta sorveglianza. Nello stabilimento laziale il vaccino viene introdotto in fiale, si eseguono test sul contenuto finale, poi le scorte raggiungono il Belgio per lo smistamento verso le destinazioni finali. La multinazionale di Anagni ha respinto le accuse di scarsa trasparenza e ha fatto sapere che 16 milioni di dosi stoccate sono destinate all'Europa, altre 13 milioni sono in attesa del controllo di qualità e sarebbero destinate a COVAX, il programma internazionale per portare il vaccino ai paesi a basso reddito. Ecco, l'abbiamo visto. Che cosa ne pensa del governatore della campagna che ha ordinato alcune dosi di Sputnik? Guardi, capisco il desiderio di trovare quanti più vaccini possibili sul mercato, ma il mercato ha due regole. La prima è che nessun farmaco può essere venduto, commercializzato o anche un semplice esperimento se non vi è, un via da un ente regolatorio che è AIFA per l'Italia o l'EMA per tutta Europa. Quindi anche volendo, diciamo, prendersi quel vaccino, se non hai un'autorizzazione... Non lo puoi distribuire. Non potresti nemmeno acquistarlo, a dire il vero. Beh, lui dice che sono soldi nostri, della regione. Non chiediamo niente a nessuno. Sì, ma stai mettendo, diciamo, stai dando ai tuoi pazienti, perché siamo tutti pazienti in questo momento della vaccinazione, un farmaco che non ha un'approvazione. Quindi non è un qualcosa che è validato. Per cui in questo caso bisognerebbe aspettare l'approvazione dell'EMA e poi potrebbe essere il sistema. O anche AIFA, le possibilità sono due. Oppure potresti farlo in via emergenziale. La via emergenziale non ti consente però l'acquisto e hai quelle dosi per quel determinato esperimento. Non so, mezzo milione di dosi per fare un esperimento e valutare. Il secondo motivo è che non possiamo muoverci in ordine sparso. Cioè l'Italia è fatta di 21 sistemi sanitari regionali ed è giusto che questi vengano coordinati a livello centrale e che l'acquisto sia centrale. Questo è necessario. Queste sono le due ragioni per le quali capisco la sensibilità del governatore De Luca nel voler aiutare i campani e muoversi per cercare delle dosi. Però abbiamo un sistema di acquisto centrale e di distribuzione alle regioni e abbiamo la necessità che ciò che arriva nel nostro territorio nazionale sia validato e che quindi abbia una certificazione di sicurezza. Non che il vaccino Sputnik non sia sicuro ed efficace. Adesso ne parleremo con il professor Maglia che sta arrivando. Sicuramente i risultati scientifici questo dicono ma se esiste un perimetro che viene dato da un ente regolatorio in quel perimetro noi dobbiamo stare. Lei immagini cosa potrebbe accadere se ti arriva lo Sputnik che non chiamiamolo Sputnik chiamiamolo il Sileri come vaccino così non offendiamo nessuno. Questo vaccino Sileri dopo qualche settimana ti fa qualche complicanza tipo quelle che sono state osservate in Germania per l'AstraZeneca. Però a differenza di AstraZeneca che aveva l'autorizzazione del Lemma questo non ha nessuna autorizzazione. capisce che è un percorso e una filiera non accettabile in un paese come il nostro. Meglio aspettare. Già in questi giorni siamo arrivati a 300.000 300.000 vaccinazioni al giorno e Figliolo ha detto arriveremo prestissimo nei prossimi giorni a 500.000 Anche 600.000 ce la faremo? Ma sicuramente sì. Ci vediamo dopo Pasqua? Ci vediamo dopo Pasqua. Grazie. 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 Grazie.